Il 25 agosto è una data di grande importanza per tutto il comprensorio cilentano che partecipa alla festa di San Bartolomeo Apostolo, santo patrono di Pellare. Questo giorno speciale rappresenta una storica ricorrenza religiosa e un momento di profonda devozione e tradizione. Ieri mattina nella Chiesa Madre è stata celebrata la Santa Messa, presieduta da Don Antonio De Marco con Don Angelo Imbriaco, inserita la processione per le principali strade cittadine. Due momenti attesi, inseriti nel ricco programma religioso e civile messo a punto dal Comitato Festa. La celebrazione di San Bartolomeo è un'occasione preziosa per riunirsi in preghiera e riflessione, rinnovando il legame che unisce e che ha radice profonde nella fede e nella storia di Pellare. Un giorno in cui la fede si manifesta con particolare intensità attraverso le varie espressioni di devozione popolare, per riscoprire attraverso la comunione spirituale e i valori che San Bartolomeo ha insegnato con la sua vita e il suo martirio. Ad anticipare il giorno della Gran Festa, altri due importanti momenti, con la deposizione e la benedizione di una corona di fiori presso il Monumento ai Caduti, alla presenza di autorità militari, civili e religiose. Affiliamo al nostro Santo Patrono, San Bartolomeo, speranze e prepositi per riuscire a costruire sempre di più una comunità, una nazione, un mondo intero di tutti. Viva il San Bartolomeo, viva la nostra comunità, viva il Canale. È in Piazza degli Eroi, gran galà di musica operistica eseguito dalla banda Città di Francavilla Fontana e dalla Grande Banda del Cilento.